Per noi è stata una bellissima vittoria, forse la prima in tutto il campionato, anzi sicuramente la prima su un campo di una squadra davanti a noi in trasferta e quindi siamo tornati molto molto soddisfatti da Brescia. È cambiato qualcosa? È stato un processo di crescita graduale o tutte e due le cose? Ma no, entrambe le cose, come ho detto anche la settimana scorsa, non puoi mettere dieci giocatori assieme e fin da subito le cose vanno tutte bene, questo no sicuramente, quindi col tempo le cose sono migliorate, siamo conosciuti di più e dall'altro lato chi non aveva ben chiaro il proprio ruolo, le proprie situazioni, l'ha imparato a capire, a sapere. Quindi l'insieme di queste due cose ha fatto sì che arrivassero risultati e ci portassero alla finale di Coppa Italia e adesso siamo in piena corsa per il playoff. Vi aspettavate di avere questa forza difensiva? Sì, però bisognava dimostrarlo, nel senso che siamo giocatori forti fisicamente, che si sanno far sentire mentre campo difensiva, però poi bisogna anche farlo tutti assieme. E questo lo si fa o lo si impara col tempo e negli ultimi mesi stiamo difendendo molto forte, quindi nonostante abbiamo giocatori di talento con punti nelle mani, è un nostro punto fermo alla difesa.